Magna Virtus. Che cos'è la Divina Sapienza? Commento. La Divina Sapienza non è ciò che l'uomo riesce a pensare. In le confessioni Agostino dice, magna virtus tua et sapientie tue non est numerus. Il tuo grande potere e la tua saggezza non sono contati. In Sefer Yetzirah della Kabbalah ebraica è scritto, la loro fine, si parla delle Sefirot, è unita al principio come la fiamma è unita al tizzone. In Chandoghia Upanisad è scritto, il Brahman è l'uno, senza secondo. I maestri del Cerchio K ripetono queste connessioni per fare ardere nel bracere del nostro intimo la devozione.